Guai a sottovalutare il Cuscagliari che fa a visita al Palatagliate domenica in occasione del sesto basket dei Lucchese. Sì perché a dispetto di quanto fortunatamente solo temuto, la squadra sarda non ha rissato bandiera bianca ma ha solo in parte ridimensionato il progetto. Della squadra che aveva sorpresa all'inizio stagione non fanno più parte Asia Taylor ed Emily Correal, ma a loro posto sono giunte due giocateci di esperienza e livello. Meno atletiche ma che possono garantire peso e punti sotto canestro. Stiamo parlando dell'ex La Spezia Laomareche, giocatrice che quest'anno ha già dimostrato di poter fare male alla difesa bianco-rossa e l'esperta classe 76 Vona Bogorje, già vista qualche anno fa a Maddaloni. Agli ordini di coce restivo l'ex playmaker Lucchese Agnese Soli, mai come quest'anno donna assist, ma soprattutto Trisha Liston, la migliore realizzatrice del torneo, e Milika Mikovic, dodicesima alla voce punti realizzati nell'intera 1. Fermare la coppia Liston-Mikovic è quasi impossibile. All'andata ci vuole una super mattina crippa per limitare il potenziale offensivo dell'ala slava naturalizzata italiana. L'americana mise comunque a segno 22 punti, tiratrice quasi infallibile dai 6,75, può fare canestro quando vuole, forte del 48% abbondante da oltre l'arco. Diamanti sa che può contare su rotazioni più lunghe, un vantaggio che deve essere tradotto in una grande pressione difensiva. Solo così si può contenere il potenziale offensivo di Cagliari, che a dispetto della classifica, è te più interessanti dell'intera Serie A. Conterrà molto l'aspetto emotivo, Luca sa che non può più permettersi di perdere se vuole guardare in alto la classifica. Cagliari, dopo la facile vittoria contro Etaieste, si è rilanciata per l'ottavo posto playoff. Si giocherà alle 16 in virtù del Basket Day, curioso precedente, perché anche nello scorso campionato la gara contro le Sade coincise con la giornata del basket. In quell'occasione una superba Megan Mahoney consegnò due punti alla sua squadra, 88-73 il finale.